Buonasera a tutti, Boucher Sportivo fino a 500 euro. Vediamo insieme di cosa si tratta. La Calabria per i giovani, azione Boucher Sportivi, è un'iniziativa promossa dalla regione Calabria realizzata in collaborazione con Sport e Salute S.P.A. Il progetto prevede l'erogazione di Boucher in favore di giovani dai 14 ai 24 anni, con priorità per i giovani appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni precarie economiche e sociali per lo svolgimento gratuito di attività sportiva presso associazioni sportive dilettantistiche ASD e società sportive dilettantistiche SSD operanti sul territorio calabrese e regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Società Sportive dilettantistiche R.A.S.D. Come già detto all'inizio, l'importo massimo di ogni singolo voucher è pari a 500 euro. La pratica sportiva dovrà essere svolta dal beneficiario per almeno due ore settimanali. Il voucher all'esito della valutazione della commissione di cui al successivo articolo 9 potrà essere scaricato da ciascun beneficiario dall'area riservata della piattaforma informatica dedicata, messa a disposizione da Sport e Salute, più avanti vediamo in piattaforma. Il voucher potrà essere attivato dal beneficiario presso le ASD oppure SSD prescelte per lo svolgimento dell'attività sportiva sino al raggiungimento del valore massimo del voucher stesso. al fine dell'attivazione il beneficiario dovrà comunicare alla ASD oppure SSD il codice univoco del voucher sportivo trasmesso da Sport e Salute tramite la piattaforma ed indicare il numero di mesi di attività sportiva che intende effettuare tenendo conto che l'attività sportiva dovrà concludersi entro e non oltre il 28 febbraio 2025. Accedendo all'area riservata della piattaforma sarà possibile per il beneficiario verificare il valore residuo del voucher a propria disposizione. L'importo corrispondente all'attività sportiva fruita dal beneficiario sarà corrisposta alla ASD oppure SSD presso la quale è stato attivato il voucher previa presentazione della documentazione necessaria e non dovrà essere anticipato dal beneficiario. La domanda per il voucher sportivo scade il 5 giugno 2024 alle ore 16. le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma